Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, come state? Spero tutto bene. Allora, mi sono appena arrivati due pacchettini, uno da Bioboutique La Rosa Canina e uno dalla farmacia. Quindi vi mostro gli ultimi acquisti, sono felicissima. Allora, partiamo dalla farmacia che vi mostro, insomma, ho dovuto prendere delle cosine e dentro, per arrivare alla spedizione, diciamo, ho inserito questo balsamo labbra di Guimp, nutri, balsamo labbra con olio di argam biologico e burro di karité, pagato tipo 2 euro. Comunque è questo qui, vedremo, poi lo proveremo, intanto di scorta almeno ce l'ho. E poi, ragazze, ho preso il nuovo mascara di Pupa, Vamp Lash Extender, mascara volume estensione 3D, ed è quello rosa, appunto, vabbè, 112, non quello, 112, la linea Vamp, questo è lo scovolino, perché non l'ho ancora aperto, se mette a fuoco, sia mai, figuriamoci, se facciamo una cosa del genere. Però vabbè, tipo, da qua fuori assomiglia molto allo scovolino del mascara di Benefit che mi piaceva, il Bad Gal Bang, sì, ok, sto mandando un po' così. Lo volevo già acquistare quando siamo andati da Tigotà, la settimana scorsa, però era esaurito, non c'era l'ombra proprio, ed è questo qui. Cioè, ragazzi, ma quanto è fico il pack? Questo viola metallizzato, stupendo. Non lo apro, perché sono un po' indecisa, diciamo, vorrei aprirlo. Vabbè che ho finito quello di Bottega Verde, quindi forse quello di Chanel, sì, quello di Chanel, dovrebbe essere qua. Pena. Quindi lo apriamo, non lo apriamo. Oh, qua è anche rovinato un pochino. Non riuscirete a mai percepirlo, però forse un po' sì qua. La cromatura è un po' rovinata, però vabbè, dai. Sì, vedete? Ce lo facciamo andare bene, insomma. Ok, quindi dalla farmacia ho acquistato questi due prodottini. Da Bioboutique la rosa canina, ragazzi. Allora, un pacco ce l'ho là. Loro mettono tutto dentro in questo pluriball. Diciamo che è stato il primo ordine. Quindi loro mettono come primo ordine. Ho visto che mettono i prodottini qua dentro, in questa bustina qua, rosa di Pluriball. Il pacchettino era abbastanza piccolino, ce l'ho lì, ma senza che ve lo prendo. E mi hanno dato, intanto come omaggio, questo shampoo di astigizzante Ribes Cappelli Mossi di Maternatura. Questo. Di Maternatura come brand l'ho già provato in passato. Poi, questo contorno occhi Lift & Restore della Saponaria. Shampoo Ricci Definiti, capelli ricci e mossi della linea di Bioboutique la rosa canina Apple Pie. Questo qui, perché sembra rosso quando in realtà è fucsia. Non gli sembra un rosso arancione, in realtà è fucsia. E poi, nella linea Limoniamo, sempre di Bioboutique la rosa canina, questa crema manicomiti, piedi, talloni, urea 10%. Questo è il colore giusto. E con tipo 59 euro di spesa, se nelle note scrivavate omaggio, credo, però adesso non so quando vi caricherò questo video. La promozione c'era questo weekend, che era il 18 e il 19 di maggio. Quindi vabbè, insomma, per il 20, per la settimana del 20, ecco. E non so se adesso ci sia ancora. Scusate. Il pacco comunque, io ho fatto l'ordine sabato 18, sì, sabato 18, il pacco mi è appena arrivato, che è mercoledì 22. Quindi, mi hanno messo questo maggino qui di Eteria, che è un Soft Hair Repair From Below, scrub, cuoio, capelluto, riparatore e fortificante. Ha un profumo fantastico, che si sente anche da fuori. Ha il sigillo, al momento non lo vado ad aprire. Sono 200 ml di prodotto, mi sta mancando la voce. E appunto uno scrub, prima dello shampoo, applicare sulla cute inumidita e massaggiare con movimenti circolari, lasciare in posa qualche minuto e risciacquare. Comunque, profumo super fiorito, ma buonissimo. Ragazzi, ora vi mostro gli acquistini che ho fatto lì. Allora, tutto tema Nabla. Ho preso i nuovi rossetti, insomma, nuovi per me, sono nuovi. I Beyond Blurdy Soft Focus Sheer Matte Lipstick. E ho preso la colorazione celeste. Ragazzi, ho il pack di questo prodotto. Vediamo quanto è bello. Guardate qua. È bellissimo. Tutto qui è opaco, morbido. Qui abbiamo Ren, di Nabla. La colorazione appunto che è celeste. E poi, non so se il mio è difettoso, o a tutti questi stick esce, tipo già il prodotto. Vedete, non va dentro. Comunque c'è una buona parte di rossetto fuori. Che, se vuole, state attenti comunque a mettere lo schifeggiate dappertutto. Ve lo tiro fuori comunque per farvi vedere la quantità. Che è questo. Sono 3.2 grammi di prodotto. Sinceramente dal sito mi sembrava diverso come colore. Anche lì, in fotocamera, è molto più chiaro della realtà. Cioè, vi giuro, è un marrone scuro. È un marrone scuro nella realtà. Infatti sono rimasto un po' così. Lì sembra chiaro. Però appunto, quando lo vado a tirare giù tutto, ok, giù tutto, rimane fuori comunque tutta quella parte lì di prodotto. Abbiamo comunque il logo Nabla. E non so se il mio è difettoso, o se li hanno fatti tutti così. Perché se li hanno fatti tutti così, sinceramente, non trovo il senso. Qui comunque dovete stare attente poi a metterlo dentro, altrimenti veramente lo sbottocciate dappertutto. Però vabbè, non vedo l'ora di provarlo. Poi, ragazzi, io ne ho già parto uno perché... Vabbè, no, riesco di chiudere perché ho capito come si apre. Ho preso 3 dei nuovi blush di Nabla. Sono i close-up Blurring Powder Blush. E ho preso. Allora, partiamo dalla prima tonalità che è Paradise. E qui, ragazzi, io capisco, il pack bellissima, non voglio dire niente. Però come le cipre o come gli altri correttori, c'è una stacca, senza rola di apertura. Cos'è? Esagonale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cioè, vedete che dovete proprio cercare all'inizio. Ci ho messo un po', cioè ci vuole quasi una laurea per aprirli. E... Da dove... Ok, vabbè. Da sotto, semplicemente, poi ho trovato, ho infilato la forbice e... E sono riuscita ad aprirli. Non c'è, tutti carini, però porca vacca. Cioè, si fa pure fatica ad aprire la scatola. E niente, questo è il pack. Comunque ci sta, super carino, curato, eccetera. Li ho presi sul sito di Beboutique perché erano in sconto a 18,40 euro al posto di 23, come sul sito di Nabla, mentre ho visto che da finali erano già a prezzo intero. E questo è il pack. Colorazione, appunto, Paradise. Mi viene sempre da dire Nectarine perché ho blush di questa colorazione qua e si chiama Nectarine. Abbiamo 5 grammi di prodotto. Comunque è piccolino. Un compatto, opaco. Qui abbiamo anche uno specchio. E questo è il blush. Poi magari vi faccio delle riprese a luce naturali a fine video. Così lo vedete bene. Profumo... Non a profumo, cioè... normale. Ragazzi, è super, super morbido e setoso. Cioè, è veramente super setoso. Appena l'ho sbucciato, ho detto oh mio Dio, che cos'è questa cosa? Poi, andiamo ad aprire gli altri due e abbiamo Lucky Rose aspettate perché dobbiamo alzare prima un lato per forza di cose spacchiamo un po' la confezione. questo è Lucky Rose sempre lo specchio questa è la colorazione però ve le faccio vedere fuori a luce naturale perché così sembrano tutte simili e uguali e poi abbiamo Petite che mi sembra tipo il blush rosa di Dior sempre ed è questo rosino qui sembrano tutte uguali quasi dal video cambiano veramente di poco però ora ve li mostro a luce naturale ok ragazzi allora questi sono i blush e abbiamo allora qui Petite sì Paradise e questo che è Lucky Rose questi sono i tre blush in tutta la loro bellezza mentre questo è celeste e niente ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto vi mando un grosso bacione ci vediamo alla prossima ciao